Nella terza ondata abbiamo avuto meno letti di terapia intensiva, siamo arrivati massimo a 20 pazienti in terapia intensiva a Prato perché l'area medica si è attrezzata in maniera diversa. Abbiamo fatto un grande uso di ventilazione non invasiva nella parte medica del nostro ospedale. I medici, preomologi, internisti e di tutte le specializzazioni hanno imparato nel tempo, in quest'anno, a usare i ventilatori non invasivi. Questo è stato uno dei più grandi insegnamenti di questa pandemia e anche i nostri infermieri, la parte assistenziale sui pazienti, ha sicuramente tratto un beneficio da via via vedere l'andamento di questa malattia. Sicuramente questo ha evitato il fatto di mandare i pazienti in terapia intensiva e quindi di intubarli. Ovviamente serve formazione, serve esperienza e serve personale.